Alla buon'ora! Scusi il ritardo! Tanto ormai! Oggi ovviamente ha dovuto darmi un passaggio a mio padre e come tutti gli uomini, visto che siete degli scansa fatiche, si è svegliato in ritardo. Oggi parliamo del femminismo. Io sono femminista. Spieghi il significato alla classe allora. Sì, vuol dire parità dei sessi. Quindi uguaglianza. Beh, prof adesso, uguaglianza è proprio un parolone, nel senso, se vogliamo fare i buonisti, ok, però si sa che comunque le donne hanno una marcia in più rispetto agli uomini, dai. Tu che sei alta, mi prendi il libro dall'armadio e non ci arrivo. Io? Cioè, abbiamo la classe che è piena di maschi e chiedi a me. Marco, alzati e fa gentiluomo. Ma sono sulla sedia a rotelle. Ieri ho chiesto a Luca se voleva uscire con me. No, 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 ragazzi, ma che stiamo facendo? Le donne devono farsi desiderare, i maschi devono rincorrerle. Funziona così? Ma questa è completamente rincorrerla, mi sa. Ragazzi, in sta classe c'è puzza, lavatevi. Vabbè, prof, saranno i maschi, cioè non si lavano, si sa che non gli piace curarsi, sono delle scimmie. Al primo appuntamento gli offro io la cena. Non ho sentito, scusa, ripeti. No, dicevo che hai prima... Ivan, hai preso tre. Cioè, puzzi e sei pure ignorante. Zitta, lavatrice. Ma stai zitto, portafoglio con le gambe. Oh, uno più fuori, stronza.